Come di consuetudine il giorno prima della partita il nostro natore Stefano Pioli ha parlato ai microfoni in questa conferenza stampa in cui ha presentato bene la partita che ci sarà domani all'Olimpico, domani sera contro la Lazio. Una partita molto difficile, la squadra di Maurizio Sarri che quest'anno è un po' faticato perché ancora sta assimilando i concetti di Maurizio Sarri che già dal prossimo anno sarà una squadra che tornerà ad essere sicuramente molto molto competitiva. Andiamo a leggere le domande e le risposte di Stefano Pioli e poi le commentiamo insieme. Sulla classifica esposta a Milanello, non ce n'è bisogno, siamo consapevoli del percorso che stiamo facendo e del momento che stiamo vivendo, che è il momento più elettrizzante ed eccitante che possiamo vivere. A 5 dalla fine, se mi lotta per vincere lo scudetto, siamo concentrati su domani. Gli hanno chiesto dell'atmosfera in spogliatoio, mi sento dire che i nostri tifosi hanno già vinto lo scudetto, sono i migliori, ci coccolano, ci motivano, ci stimolano, ci danno energia. Averli così numerosi domani non può che darci un'ulteriore spinta. Non conta tanto come sta la squadra dopo il derby, conta quello che vogliamo fare domani sera. Ha parlato di Ibrahimovic dicendo Zlatan è comunque il faro di questa squadra, la sua forza e volontà è indomabile, quello che sta facendo per essere disponibile e aiutare è eccezionale. Ha fatto bene l'allenamento ieri, partirà con noi così come sta bene Ante, siamo pronti per la partita di domani. Ha parlato anche della trattativa tra il fondo Iliot e il fondo Invescorp dicendo siamo di fronte ad un momento importante in campionato con una società e un club sempre presente, un presente molto solido sul futuro. Non è una domanda da fare a me. Ha parlato della Lazio, del suo attacco dicendo affrontiamo una squadra al potenziale offensivo importante con Immobile che ha la figura principale. Dobbiamo mettere in campo una prestazione di qualità alta, dovremo palleggiare bene per trovare gli spazi. Tutti gli infortuni che abbiamo avuto fino a ora, fino a metà stagione non ci hanno permesso di fare delle rotazioni. Quelli che abbiamo fatto fino a due minuto fa non conta niente. Siamo concentrati su domani sera. Sulla non contemporaneità delle ultime due giornate ho detto onestamente le ultime due giornate, se ci sarà ancora equilibrio, sarebbe stato giusto giocarne in contemporanea. Inutile comunque parlare di cose che non posso controllare, nessuno ha chiesto il mio parere. Ha parlato anche di come si sia svegliato Rebic, se c'è un caso Rebic. Non c'è nessun caso, Ante soffre di una tendinite cronica al ginocchio, ogni tanto si sveglia. Nel riscaldamento a pregare aveva già sentito qualcosa. Fortunatamente sono serviti solo due giorni di terapie e pronto per dare tutto come gli altri. Ha parlato sui favori arbitrali che secondo qualcuno si compensano l'arco di una stagione. Nell'ultimo cinque partite c'è bisogno che succeda qualcosa che non è successo fino ad oggi, ha risposto Stefano Pioli. Cos'ha in più l'Inter del Milan e viceversa? Non lo so, ha risposto Stefano. Non è questa la situazione che mi interessa. Dobbiamo provare ad avere qualcosa in più dei nostri avversari domani. Troveremo una squadra molto motivata, così come tutti i nostri avversari, che hanno giocato giustamente la partita della vita. Chiudiamo questo riassunto delle dichiarazioni di Stefano Pioli dicendo quanto è importante giocare subito dopo il derby. È importantissimo. Sappiamo che più ci avviciniamo alla fine del campionato e più il risultato peserà tanto. Non è importante se la squadra è delusa o altro. È importante la partita di domani. Ci siamo preparati nel miglior modo possibile. Quindi uno Stefano Pioli che ha dimenticato il derby, che vuole isolare la squadra dalle voci, dalle tante voci arbitrali, dal futuro, ma vuole concentrarsi sulla partita giustamente sulla partita di domani. La partita contro la Lazio, un weekend importante. Stasera alle 18 giocherà l'Inter contro la Roma. Vedremo quello che sarà il risultato. Chiaro è che se ci dovessero allentare l'Inter è obbligatorio, un must vincere domani. Staremo a vedere una cosa certa. Come ha detto Stefano Pioli, i nostri tifosi hanno già vinto lo scudetto. Stiamo vicino alla squadra, sosteniamola e cerchiamo sempre, sempre di tifare, sempre e di essere il più possibile fedeli, il più possibile vicini ai nostri ragazzi. Che se lo meritano per la cavalcata di questa stagione, una cavalcata pazzesca che ci deve regalare lo scudetto. Fatemi sapere amici di Rubrica Rossonera cosa ne pensate di Stefano Pioli, cosa ne pensate delle dichiarazioni al nostro tecnico. Come sempre, se vi è piaciuto questo video, vi chiedete di mettere un mi piace, di condividerlo e di iscrivervi al canale YouTube Rubrica Rossonera.